Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Oggi la carne al fuoco è veramente tanta, io non mi aspettavo una ripartenza così significativa da parte delle borse che quest'oggi festeggiano. Sappiamo che la notizia più importante è quella relativa alla Corte Costituzionale tedesca con riferimento al quantitative easing e sembra che in qualche modo le borse stiano festeggiando. Questo avviene sul mercato delle equiti ma non avviene sul mercato dei cambi. Io partirei dal grafico appunto di euro dollaro che è la posizione che vogliamo seguire in questo momento per approfondire tutta una serie di tematiche che io ritengo essere interessanti. Allora il nostro livello di ingresso è 1,0885 se scendiamo di time frame quindi andiamo su 15 minuti vediamo che sostanzialmente ci siamo arrivati siamo a qualche pip probabilmente durante questa candela verrà eseguito il nostro ordine. In realtà non l'abbiamo ancora immesso lo metteremo tra qualche minuto però facciamo qualche ragionamento insieme. Allora la prima considerazione da fare appunto è questa legata alla legittimità o meno del quantitative easing da parte della BCE ma non c'è solo questo perché c'è anche la Federal Reserve ovvero questa è la settimana che ci porta ai dati sui non farm payrolls che saranno probabilmente tra i più negativi che quantomeno io ricordi e questo potrà avere un effetto avrà sicuramente un effetto molto negativo sui diciamo sui dati dell'economia americana nei prossimi mesi. Questo significa che la Fed cercherà in ogni modo di diciamo di difendere di aiutare l'economia cercando di svalutare il dollaro cercando di andare nella direzione indicata anche tra l'altro dal presidente Trump. Quindi secondo me all'interno di questo scenario il trade a rialzo su euro dollaro così come lo abbiamo impostato noi è una delle soluzioni migliori che possiamo perseguire perché se da un lato abbiamo l'Europa che cercherà di fare di tutto per tenere insieme quello che è il meccanismo europeo dall'altro avremo l'America che cercherà di indebolire il dollaro per sostenere l'economia con una Fed molto più reattiva a mio avviso rispetto a quello che potrebbe fare la BCE. Di conseguenza in questo scenario secondo me euro dollaro è destinato ad indebolire, se ho messo un target a 1.0980 penso che in realtà si andrà anche un po' più in alto qualora dovesse esserci una ripartenza, per il momento non è partito euro dollaro ma quando dovesse partire secondo me può fare anche due tre figure al rialzo. Andiamo subito quindi sul sito di Ibenpe Paribas, clicchiamo su certificati a leva, turbo certificate, arriviamo in questa pagina, questa pagina ci dà la possibilità di poter selezionare il sottostante euro dollaro e i prodotti long. Ovviamente quando si va a fare trading sul mercato valutario è evidente che bisogna prendere degli strumenti che abbiano una leva abbastanza elevata perché come sappiamo si muove nell'ordine di qualche punto percentuale quindi sono strumenti molto meno volatili rispetto all'azionario o comunque anche agli indici, quindi la nostra scelta ricade sull'NL 001 40 37 517 con leva 25 volte, questo certificato annulla completamente il suo valore a 1.05. Quindi voliamo in piattaforma, io vi segnalo che ho già questo prodotto in portafoglio quindi ho già 4.000 pezzi di questo prodotto però sono convinto di questa idea e di conseguenza mi metto leggermente più in basso ma solo perché io sono già entrato in posizione, vedete un piccolo profitto di una settantina di euro metto un altro ordine sostanzialmente per rinforzare quella che ha la posizione in essere, non era una posizione molto grande, adesso prendiamo una posizione un po' più importante. Bene quindi andiamo a ricapitolare il trade proposto oggi, la strategia operativa è una strategia che si basa su dati macroeconomici, su euro dollaro, un trade al rialzo con longa 1.08.85 stop loss 1.08.15 target 1.09.80. Ovviamente potrà esserci volatilità nella giornata di oggi ma vi esorto diciamo quindi nel caso non foste particolarmente esperti a ridurre le sides in portafoglio. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.